Walter De Manni, Corre Gaetano Trovato, una cucina di design? Una provocazione nata da un'esigenza ben chiara di Gaetano che voleva una cucina fatta su misura, sulla sua sensibilità, ci ha stimolati e abbiamo, credo, fatto un bel lavoro. Lascio a lui descrivere un po' la filosofia di questa nuova linea, molto italiana, ma che penso sia assolutamente interessante e nuova. Allora, il progetto è già da due anni che io lo elaboro e con Walter io ho fatto la prima cucina di Arnolfo e per noi è fondamentale andare oltre. Oggi pensiamo al design italiano, alla funzionalità e soprattutto alla comodità, al conforto dei giovani, perché con un colpo di spugna questa cucina in dieci minuti si rimette tutto in ordine ed è fenomenale, bello. Il concetto del design italiano è quello di pensare oggi al futuro, perché è fondamentale, al futuro dei giovani, quindi divulgare il design e divulgare la qualità e con questo è il mio pensiero, perché sto realizzando appunto la nuova sede di Arnolfo che sarà appunto contemporanea e questo è un oggetto di contemporaneità di design italiano. Ma oltre al design c'è la funzionalità e il servizio. Stavo dicendo la sfida tecnica era di mantenere l'affidabilità e quindi una certa garanzia di solidità, di durata nel tempo, pur in un contesto di forme e di tecniche e di materiali che rispettasse tutte le due cose. Arnolfo, Gaetano, cioè vuole l'estetica, vuole la funzionalità, vuole le cose. Io evidentemente devo anche garantire che il prodotto, la macchina, come la chiamiamo, sia altrettanto affidabile come le altre, come lo standard diciamo. L'ergonomia, ma soprattutto il futuro per la nuova generazione, pensare all'evoluzione, all'evoluzione che va avanti e questo è fondamentale. La passo in avanti, è un work in progress perché questo non è un prototipo, è il primo, è il numero uno o numero zero. avverrà anche uno sviluppo su vari moduli, su varie tipologie, stiamo già facendo per Gaetano delle macchine combinate con il freddo, cioè anti-refrigerate, anti-calde, macchine di cottura sopra. Cioè quindi è un progetto piuttosto importante, diciamo così. È il mio sogno nel cassetto che si è realizzato finalmente. Un cassetto refrigerato. È vero, è vero. Grazie.